E' uno scenario che era impensabile anche solo 5 anni fa, uno scenario molto interessante dal punto di vista del mercato, ci sono degli investimenti pianificati direi eccezionali per la nostra industria in questo contesto. In Europa la catena di fornitura è senz'altro stressata per dei fattori di mercato, quindi una domanda crescente, per una serie di trasformazioni legate alla transizione energetica che però porta con sé anche a un cambio del design dei prodotti, quindi sempre maggiore compatibilità ambientale dei prodotti che si aggiunge a una domanda crescente, a una supply chain per quanto riguarda le materie prime, qualche volta in difficoltà, in particolare per materiali come componenti elettronici, rame, alluminio. E quindi senz'altro la possibilità di seguire questo ciclo di sviluppo c'è da parte dei fornitori, ma è senz'altro una delle criticità che si possono porre non tanto nell'immediato ma nel medio periodo. Alcune grandi utilities globali, anche alcune italiane si stanno muovendo nell'ottica di pianificare gli acquisti nel lungo periodo, quindi passare dal modello che abbiamo utilizzato fino ad oggi, quindi di acquisto e di investimento per coprire necessità di breve periodo, a dei veri e propri piani che si assicurino slot di produzione in periodi dell'ordine dei 3-5 anni, quindi una strategia volta ad assicurarsi la disponibilità dei materiali quando servono.